Controlli in centro dei carabinieri di Arezzo che hanno trovato un nascondiglio utilizzato da spacciatori, al momento ignoti, nel quale sono stati rinvenuti e sequestrati mezzo chilo di hashish diviso in 5 panetti, 5 grammi di marijuana e 7 grammi di cocaina, nonché materiale idoneo al confezionamento delle dosi di varie tipologie di sostanza psicotropa. All'analisi degli inquirenti ora le varie ipotesi investigative per individuare il proprietario o i proprietari di quanto sottoposto a sequestro. Nel corso degli stessi controlli è stato denunciato un giovane di origine ganese che aveva spaccato, scagliando grosse pietre, una sbarra di lunotto di un'auto. Controlli anche per verificare come ci si mette alla guida e proprio questi controlli hanno permesso di sorprendere quattro persone alla guida con elevato tasso alcolemico e quindi di denunciarle alla procura della Repubblica. Per la movida di questo fine settimana si conta sul freddo che spengerà, si spera, i bollenti spiriti.